L'anno scorso è stata redatta una nuova classificazione delle varie forme di epilessia. Quest'anno la Lega Italiana contro l'epilessia sta lavorando ad una traduzione di questo lavoro. Qual è il principale obiettivo? Il principale obiettivo è fare sì che anche nel nostro Paese le diverse forme di crisi epilettiche e di sindrome epilettiche siano denominate con una terminologia utilizzata a livello mondiale. Da noi in Italia ancora si usano termini assolutamente desueti e confondenti come piccolo male e grande male per denominare delle particolari forme di epilessia. Questa è una terminologia non più accettata e quindi l'Ice, proprio perché si occupa anche di formazione dei neurologi, sta cercando di diffondere il più possibile la nuova classificazione delle epilessie. Una traduzione adatta anche al paziente, noi l'abbiamo già fatta. Esiste un opuscolo informativo redatto dalla Lega Italiana contro l'epilessia che si chiama Guida alle Epilessie e che è presente sul nostro sito. Basta andare a www.lice.it e si può scaricare questo opuscolo informativo. È possibile stabilire i tempi entro i quali sarà pronta questa riclassificazione in italiano per i medici invece? Fine 2018. Un altro nodo da sciogliere è il rapporto tra l'epilessia e la patente di guida. Persistono delle criticità legislative e la Lega Italiana contro l'epilessia si sta battendo anche da questo punto di vista. Il rilascio e il rinnovo della patente di guida è consentito alle persone con epilessia purché corrispondano a dei requisiti che sono previsti da un decreto ministeriale del 2010-2011. Non viene bene esplicitato chi ha l'obbligo della segnalazione del soggetto che guida pur non avendone magari i requisiti. Il requisito fondamentale è non avere crisi da almeno un anno. Molte persone hanno già la patente perché magari la diagnosi di epilessia è stata fatta successivamente e continuano a guidare. Questo espone a rischi sia la persona che la collettività. In quel caso il neurologo curante cosa deve fare? La legge non è precisa in questo ambito e quindi di chi è l'obbligo della segnalazione che sicuramente non potrà mai essere a carico del neurologo. Il neurologo deve rispettare l'alleanza terapeutica e tutte le polisi legate al rispetto della privacy. Il neurologo ha però un dovere sicuramente quello di consigliare in modo più o meno adeguato al paziente di non guidare quando quel soggetto specifico non ha i requisiti che la legge richiede per poter guidare senza restrizioni.